Il Ministero all'Ambiente ha stanziato 70 milioni di euro per tre anni per attività di mitigazione dei cambiamenti climatici a tutti i comuni presenti in parchi nazionali e nelle aree UNESCO, MAB, Man and Biosphere. Tali aree nascono nel 1971 e mirano a promuovere su basi scientifiche un rapporto equilibrato tra uomo e ambiente attraverso tutela della biodiversità e sviluppo sostenibile. Le attività finanziabili riguardano quindi l'efficientamento energetico, riduzioni emissioni gas a effetto serra attraverso misure come la riforestazione, mobilità sostenibile e dolce, incremento energie rinnovabili e strumenti idonei al relativo monitoraggio, controllo e contrasto all'inquinamento. Gli interventi sono diretti ai comuni delle aree centrali, delle zone Cuscinetto, VHS e MAB, aree di cooperazione e comunità situate in parchi nazionali. In campania i siti coinvolti nei vari programmi sono Parco Nazionale del Vesuvio e il Miglio d'Oro, Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, Area Marina Protetta, Costa degli Infreschi e della Masseta, Area Marina Protetta, Santa Maria di Castellabate. L'Italia in generale ha certamente un protagonismo importante per quanto concerne i siti UNESCO, afferma la Mura, infatti è il paese con maggiori siti di interesse naturale e culturale. Ben 55, inoltre sono 19 le ulteriori aree presenti nella rete mondiale delle riserve della biosfera e ulteriori elementi intangibili protetti come patrimoni immateriali, ad esempio la dieta mediterranea del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.